ho fatto iscriviti ho fatto iscrivere aspetta mi scrivo dal computer siamo a 49 ilary posso cambiare cerco un amico così mi scrivo amico cerco come no vabbè poi mi scrivo dalla playstation e dal computer ma questo è sceso che scrive si metti pronto per arrivare a 50 iscritti o dobbiamo aspettare a loro amico porco di oh un attimo lo devi regalare un ballo 200 quello che vuoi tanto non mi piace ma come ti fai cambiare prima fammi vedere il ball allora c'ho questi da 200 quella posizionati l'hai no ho questo quale? ciao ciao è troppo bello no è troppo bello che cazzo guapo guapo oh matti guapo mettiamo ma dove giocare il rosario il rosario mambe amico un safira il gioco chetina figlia rosario rosario amore a mani dai facciamo tutti sia poco spiega una scuola guarda che scriviamo facciamo in casa e faccio entrare a mattia bargione che è più forte di rosaria a buttare già sono loro già ma che adesso va bene ci potete anche giocare vero dico non giocava qualcuno mica poi appena arriva mascolato scanno tu girando avanti è scevico e metti impostazioni parti avere lo devo mettere se o matte 3 entra si è mattia bargione entra mattia non lo so se mi riconosce il gruppo ai matti lo sembrano sì combata accettavano a me riconosciuto acce ma tiente ma tu invita non è è andata a partia a macchie sulla pantera amiche vai con il gioco giocatore che si è un corpo ce l'hai questo top combattato massimo la mente a quando non si negli 15 a compagno io piazza quanto davvero io si dice non va non chiede non è schifo e ascolto è pure in casa sentite il mio record fate voi due conto di ma qualche giochi stiamo facendo voi due conto di ma tutti compiato no non c'è più se no a chi fa compagnate vittima non c'è più lei pompa nuovo c'è terra la piccola due conto di mano no 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 e che mi interessa roba a me dai da vediamo che ho fatto 3 v1 che mando skin 60 kg contro 15 6 3 kg 3 v1 io 60 kg e l'altra meno di 10 era un paio pure che la fatica che vediamo ma ti cambiate scuola attraverso mi prende la munizione e dopo mi cambia le tiglie non ti cambiare scuola mattia a bambina g il cance ha detto deve insistere un paio di roma ai primiti gioca e 51 si può e 51 e 49 e 51 non iniziare mattia e minuti o le munizioni termini giochi e sfida le armi deve venire nella macchinetta gratis il materiale ti fai subito io ho già sogno con i materiali pure qua ma li possono dare è solo legno se c'è pure un viaggio mattino non solo legno che sfido ad almeno mi faccio il legno gratis perché si piccoli che è l'amera che qua viene la ma aiutami a spai ut Tadamma seria Appu vai Aiutami Aiutami Ti sei aiutando Vabbè tu fai Appu Salici di sopra Matti Così Salici di sopra qua Matti Ora si salga Oh Qua Si son io o che Ma te Qua seconda Ah si son Quasi tu roro Ma cattava Io quando mi cattava Playstation manco sapeva che si usava sui uoco Por questo è un cucino Venga Si può giocare No no adesso C'era la mia casina Neanche a Matti Perché Ma son testa di minchia No 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 non iniziere il gioco Aspetta ma non iniziare gioco non sono finito minchia o mille se si ma io mi piglia dico il gioco senza p90 io gioco io pure gioco con la dingle p90 che ha detto si chiama p90 minchia una giornata che credo ah no dove sei io mi sto facendo materiale a finnato si può a mani e picciopata dovevano non c'è più così per amalgamare la mattina ma che ha scarso ma che ha scarso non so come sei tu bar mi chiedono sai quando quando ho fatto con altri due quando abbiamo fatto tre mi chiedono due mi sto curando no arriva ed mi chiede la cosa non si possono portare cura giusto ora ma quando andate in volo di minchia è un bug un bug e quando cazzo lo risolvono ah io e negli misto lo conosci vero sì no no mattia scorso arrivo io mattia questo mattia prendiamo in aria la gente anche se vanno veloce pensa pensa quelli lenti può fare tale sì sì ma anche se mi manca poi le dio ma guarda io mi sono perché non ho e ma a me mi è manca tutto però è certo vieni qua e certo ho stati fermo un attimo ma ti arrivo noi mi siano a pigliere la e mi picchia un naio vabbè stati fanno non ci intrometto da me no 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 ma quella che si vuole insomma a fanno non mi uccidere oh ho l'altezza però non la prendo troppo per il momento ma ti è un aspetto ma si può usare lanciare al z9 basta uno di vita non me l'hai tolto vabbè compagno sembra come una cosa che non ho armi mi pichierò c'è che no quante catania che compa ah se sono due no 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 è per camminare i l'armi oh no 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 armi ho uno scoglio e dopo mi prendo il p90 vai posso giocare un po venga mi stava giustando l'armi ma basta ma ti dobbiamo così ma vada giochiamo così e mi sa che sono mai mai non lo so un battito vero fai ho detto che prende in aria perché si può prendere in aria cazzo siete vicino come ti chiami sono fatto più forte affaita e affaitare a bilan e se c'è neanche in ciò non mi costruisce non mi chiede se fai cadere pure un colpo mi doveva dare ho 22 di vita anche se mi dovevo rigenerare però ovvicini devo prendere il ferro e le trappole io ho tutto tranne trappole tanto non me la fido a trappare ma dove così no che mi fate cadere però piccio minchia non volete faitare allora faccio cadere io se ti ammazzo ti ammazzo posso però se mentre no ma che non pare cadere devo a terra è buono a me mi questo è il tuo caso quando sei a me non ho fatto un paio un paio ha scritto un ok o mente se ma a perché mi comoresse bordo te l'hanno chiesto sempre no se prendiamo mattina aria però non mi servono le troppo no che schifo che schifo che vuole non è venuta a rigomani mi ha poi come ammatticetti è buono ma come fa di ciò ammazzine fanno ai 18 calmi che risposto a piccari davanti la stagione piccami quanto a poco ma che ne in caso stefan 38 e 30 20 e 56 di scuro di il lavoro savi cento cento ora vogliamo ecco che c'è chi la veda la mina che mi cerca di mirare ma anzi no voglio solo a mattia battona perché disegnato fai quando siamo unità la scappa puro piccio attimo mi aspettavo al vivo fermo al vivo sono caduto non ci credo no 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 non va bene non va bene ragazzi ma che non si può ma va ha avuto la cazzo io no non è vabbè o piglio pure io allora ora mua piglio buono io su piglia m pezzame non ne ho messo a casa a casa a casa mattini tu puoi fettare i sensi ha detto sto venendo un attimo o per abitati io dico non posso affaitare tu nomi già mesi di o giocare a chiudere a posto veloce un po non sapeva ma te l'ho detto ma te lo sentite infatti no mi fanno fermo che mi chiede non è che basta o meglio pure io lancia ragazzi picciotti avevo piccolo giocato con l'anze razzi va a giocare l'anze razzi ma se l'avevi chiediamo più puro jux però gioco senza pino ma non c'era dove lancia razzi mattia e alle navi quella di ferro mi pare non lo fa alle navi di ferro mamma non scassa voluta vabbè bicchiere a pieno si è voglia di villa vero tavolo volance razzi ma anche te lo avevo vinto con l'anze razzi è fatto vedere con l'anze razzi tranquilli non è che non va a sovra tutto ahah è il tuo commento vabbè vabbè caro mi prendo lancia razzi io mi prendo quello quello nuovo no quello vecchio è forte perchè lancia i missi da ripetizione perciò è meglio ma che ne sei tu andiamo a me ne piglio lui chi do buone e chi cioè chi do viacchi e chi do nuovo ho lasciato deagle e pino pico buono no 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 mi direi che crash guai che come hai detto minchia forse crash su pendolo te pendolo aspetta lui era squadra 3 si lui era squadra 3 per forza perchè sono squadra 2 oh no tu sei squadra 3 sei scego no che ne so per chi so gnocca caiccia 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 c'è una volta no no però non faccio un tivo che quello vai bene qua come se tosca tutto a 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 no io sto sparando non mi ha visto io sono a a a a a allora se ti sparo se ti sparo e ti prendo dimmelo se sei tu lo senti lo senti ma ci sono la cosa fiazza di ferro minchia vai vai a non vedere matti ma tu c'è a pinnacoli a pinnacoli vero vè stati fermo dove cazzo sei non ti muovere a 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 mattina che ho fatto che fu a te mi ho fatto la cosa che vuole a giocare quando che significa mi sto incazzando 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 io ci voglio ma dare alla ma voglio una tarantrice dove fai ma ti ho preso con i lanciarazzi dirlo magari si se non mangi i muri non mi faccio uno scampino vai minghia se si tutto non mi troppo non non lo so ma con l'anciarazzi ma se non avevo altre armi a disposizione ma vede dove volevi trappare che dove minghia sei 66 mamma quanto cazzo mi hai tolto ti ho tolto 66 di scuro amir hai lasciato amir non ti sentivo ma ti eri abbandonato devo uscire o vado a giocare con altri nooo vabbana è l'ultima che l'ho mai fatto l'abbia l'abbia ah ti c'è abbandonato certo amir abbandonato ma ti che minchia fai perchè l'abbia l'abbia abbandonato l'abbia l'abbia e allora l'ann la n è così eh Giulia ma accoppia la n la n la n e vieni l'abbia 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 ma non lo oh le ola vai puoi farli in bombo matti faccio metti coppia buonì matti è mettito ma se sei tu il capo handicappato mattino buona serata a coppia oggi vedremo con la serata quale buona serata a te paolo non dice niente matti quando è che metti pronto? sta entrando a me mi ha detto eh ma facciamo squad nooo tu che dici ti hai detto esce da me? nooo entra sbri gatti ti ho scritto tu normalmente la metti però o mi chiedi squad lo invito oh compa ma come che esce? io ti ho detto esco o vado a giocare con altri giochiamo o esco? vieni tu mi chiedi io come a squad io come a squad eh ma non mi sento la faccio quattro c'era sesso ho nel caso ho nel caso tutto bug quante torce quante torce vuoi fare quante torce di mille eh sì quando dodici oh mettimi osso ah vabbè allora mettilo osso ma che alleva riempio allora app app apporto solo qualsiasi cosa ci ho fatto dobbiamo app ma che il suo ballo mi piace troppo chissio questo poi poi questo vabbè questo del pass no non è del pass questo grazie no no poi ho shoppato poi ho scioccato tutto e tre skinne da 5 euro tre passi tu ce l'hai la schiena da 5 euro con la che io Mattia la faccio provare, la faccio provare ah mio padre aveva staccato la linea perché doveva giustare la tv e la dovevo giustare capito oh no è ancora picchi d'amore tutt'alena un certo fino alla mamma ma che playstation c'è Mattia? questa è 38 e mezzo tu giravamo? mi pare la playstation pro guarda come se non mi piace scendiamo all'ultimo a me no ma che è l'ultimo sai io voglio i kill Mattia tu non hai la playstation pro oh me che la media è troppo fuente a giocare diciamo un percoggio ultimo a me ho cucinato il cilio ho cucinato il cilio ho cucinato il cilio e 16 kg oh a me mi raccomando io come buono compagno vabbè oh ieri ha fatto prima partita ero live giusto? eh sì l'ho vista la live eh l'hai vista? no proprio dall'inizio dico la prima partita sì sì l'hai visto come ho perso Mattia? hai perso di merda hai fatto una mossa inutile allora mi è salita l'anzio sbagliati il corpo del coso ho un pompa da darvi una mamma tutti posso dare a Mattia tu e Matteo un che cosa? oltre pompa uno per me e uno per voi che colore? pompa no no mi direi che non c'è nessun oh ti me is ascolto da non supporta un mattia che mi diceva che andiamo all'ultimo c'era che c'è gente cioè cosa sta bene per me sto domando chi è che vuole scudino da 50? scudino da 50? scudino scudone , scudine oh a me una sigla ma ti si spara ma tu niente mien chiaro qua allora mattia veni da me mattia veni da me no 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 monna sta curando ma adesso per farlo fare sempre la macchina siano in poco ma ti sparò un po non spiegare troppe colpe ottico e da me 44 44 di sua madre mi vuole fare a mani vuole fare voglio uscire voglio uscire uscire uccidi attento no a me non è presto piedi buona non mi ha fatto finire l'altro non mi ha fatto finire è cretino è cretino perché mi dò la cuota e io il secondo che ho atterrato ma no metodo e che legge fanno un buon su bene io non ho capito è la prova con l'india come compa no come è tutto è la prova io non ho con la normalità è lì ecco hai che? è iniziato questo partito adesso farò il giro maronna eh madonna adesso farò dopo il grusino oh mio mi piace questa macchina ma te che? quanto ti amassi nel kilo? eh 5 o 3 6 eh ma ho giocato a 3 mesi che cazzo vuoi? per me eh c'è spuglio è una pinnata tu giurandomi di che? che sai? va bene non c'è tanto lutto però vabbè compa ci fanno assegriciare lo sai dove dobbiamo andare a me ma che sapete compa va va ma se trovo qualcosa di meglio prima ci vado ah sì ma sono sicuro che c'è ma che cosa sono più basso di tutti allora oh ciao quel rumore va bene va bene va bene va bene va bene eh io me no vabbè compato non è che vabbè qui i tuori oh ma tenni vai buttano alla miseria ma che sia il suo vonono ma non è che sia il suo vonono ma non è che lena se lo vado si buono saranno mesi di streaming un paio un'altra già l'amore con un paio attento che mi fa con un po quanti sono sa no buono 131 poi non sento niente ma se c'è troppo bordello molti da dove che da liceo c'era chi dopo lo faceva il rumore perché è la stessa domanda che faceva i tomati minchia compa la vista come l'alterata è quello che era bianco come c'era un casino c'era presento a niente cercherò questo sorriso a una giornata che gioco non c'è bloccato eh sono uscito con angelo e con angelo con luca e piero alla conca d'oro ma non abbiamo fatto niente quello si è andato a sciopare 5 euro per la skin matti tu ce l'hai la skin dico quella che ho io costare 5 euro ti faccio la pallone e stanno a sciopare eh io dopo un sistema di 120 euro non c'è un piccolo pallone oh eh a me mh senza affezza per mattia se sennò se ne facessimo coppia mh vincessimo compa ma è giusto che mattia va a giocare matti e lanci ancora la live si ah ma non avere nodo matti ma fino a poco fa erano 3 euro quanti sono l'agamone zero a boschetto a boschetto oh sono invisibile l'agamone l'agamone rise o l'agamone l'agamone lanciare ti quando l'agamone ى 2011 qui